Intervento nella salata di domenica 26 settembre intorno alle 19 dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese in frazione grave. L'allarme è scattato per un principio di incendio alla vecchia chiesetta sconsacrata. Giunti sul posto hanno trovato una giovane minorende sdraiata a terra prima di sensi. Sono prontamente intervenute l'ambulanza della croce rossa di Rivarolo Canavese e Castellamonte che hanno soccorso la ragazzina mentre i vigili del fuoco hanno subito spento i bancari indegno che bruciavano nella chiesetta. La ragazza che non è in pericolo di vita dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.